Torniamo a parlare dell'appalto scuola bus per quanto riguarda il comune di Teramo. Che succede? Non si pagano le mensilità? Sì, siamo ancora una volta a denunciare questa situazione, cioè del ritardo cronico nel pagamento degli stipendi degli autisti e delle assistenti a scuola bus del servizio scolastico di Teramo. Ecco, la situazione al momento qual è? Ad oggi, a quest'ora, i lavoratori ancora non ricevono la mensilità di dicembre, quindi fra qualche giorno dovrebbero prendere anche quella di gennaio, ad oggi non prendono neanche ancora quella di dicembre. Ecco, quanti lavoratori, ricordiamoci, sono? Sono una trentina di lavoratori impegnati tutte le mattine con il servizio scolastico, ovviamente svolgono regolarmente il servizio scolastico, si svegliano mattinari 5 per prendere servizio e poi si trovano ad affrontare difficoltà per il mancato pagamento degli stipendi. Noi non siamo più disponibili a stare tutti i mesi a sollecitare una cosa che dovrebbe essere normale. Pertanto adesso chiederemo un incontro alla ditta, al comune e copieremo anche il signor prefetto perché dobbiamo stabilire una data, un periodo certo su cui fare affidamento. I lavoratori possono fare affidamento.